Il nostro telegiornale, ben ritrovati. Tra poco ci occuperemo di alcune notizie, queste sono le notizie principali. Apriremo con il maxi sequestro di beni al clan Mallardo eseguito da Polizia e Finanza, tra questi anche alcune ville a Dischia. C'è poi il commento al voto a Dischia, interviene il consigliere Paolo Ferrandino. È stato presentato stamani a Forio il nuovo prodotto della casa vinicola Pietra Torcia, c'è poi l'Olympic Judo, stamani la conferenza di presentazione del Memorial Adriana Serpico. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra poco dopo la pubblicità. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 troviamo con un grande carico di responsabilità consapevoli ma anche soprattutto perché avevamo chiesto al Paese che noi eravamo la classe dirigente capace di poter risolvere le problematiche che ancora ci sono da risolvere, il Paese ci ha risposto e ci ha creduto, eccoci qua ancora con la nostra faccia, con il nostro impegno per fronteggiare tutte quelle che sono le necessità del Paese. Un successo ancora maggiore se si pensa che comunque la vostra maggioranza usciva già da dieci anni comunque di governo del Paese ed essere riconfermati è sempre più difficile che fare opposizione. Questo è quanto succede un po' dappertutto, le maggioranze o le amministrazioni uscenti in genere non godono dei favori della popolazione, noi ne abbiamo viste di tutti i colori in questa amministrazione scorsa, ciò nonostante il Paese è rimasto dalla nostra parte, questo è veramente un grande segnale di affetto, un grande segnale di stima, da parte nostra è un'innezione di fiducia importantissima che ci viene proprio dal Paese e che ci mette nella condizione di avere maggiore attenzione, maggiore disponibilità, maggiore responsabilità. In un successo elettorale un piccolo rammarico per solo 20 voti alla sua lista non è scattato un seggio in più. Questo mi rimprovero e mi rimprovererò per tutta la legislatura perché bastava un piccolo sforzo che tutte le liste erano alla pari in sostanza, meritatamente alla pari perché diciamo la verità chi più e chi meno abbiamo messo tutto l'impegno possibile ed immaginabile. Ciò non toglie che io farò di tutto perché questa mancanza poi alla fine in qualche modo trovi un riconoscimento possibile, ma non tanto per Paolo, ma soprattutto per tutti quelli che nella lista ci hanno messo lo stesso impegno che Paolo ci ha messo e senza esperienza hanno contribuito comunque a un successo personale e a una buona affermazione della lista stessa. Peccato, poteva andare meglio e sarebbe stata l'apoteosi per me che tanto mi ero sforzato e soprattutto per tutti loro perché questo era l'obiettivo che c'eravamo prefissi e questa è un mezzo rammarico, una mezza amarezza che non mi fa godere in pieno quello che è stato il successo personale. Il consigliere uscente Giovanni Sorrentino, primo dei non eletti della lista insieme per Ischia con 283 voti, con una nota ringrazia gli elettori schitani che ancora una volta hanno voluto esprimere il loro consenso sulla sua persona. Alla mia non più perdita, dice Sorrentino, il risultato che ho conseguito mi lusinga e mi dà la certezza che in tutti gli anni che ho servito i cittadini e le istituzioni ho lasciato un segno indelebile, continuerò ad essere vicino a quanti avranno bisogno di un aiuto, un consiglio e nel ruolo che mi verrà dato investirò le mie energie, la mia esperienza e la saggezza, indispensabile a quanti svolgono i tanti delicati compiti nell'amministrazione pubblica. La compagine che si accinge ad iniziare il suo percorso alla guida del Comune di Ischia è composta anche da nuovi giovani volti che avranno bisogno di compiere il loro periodo di noviziato e di chi saprà consigliarli e guidarli. Sarò, dice Sorrentino, a loro totale disposizione. Sono certo altresì che il giovane ma già esperto sindaco Enzo Ferrandino ha tutti i numeri per vagliare e risolvere gli enormi impegni che la carica comporta. Marco Laraspata, candidato della lista Ischia prima di tutto, ringrazia gli elettori. Grazie di tutto, dice, dopo un duro lavoro sincronizzato tra la prima volta in politica e il mio lavoro aggressivo, il mio personale obiettivo è raggiunto alla grande. Faccio i miei complimenti personali a tutti quelli che hanno lavorato dietro le quinte e non. Ed infine, dice Laraspata, ringrazio la mia famiglia che mi ha sopportato, supportato in questi lunghi giorni di nuova esperienza. Si svolgeranno dall'11 al 22 luglio le prove orali per il concorso per l'assunzione a tempo indeterminato per tre mesi nel periodo tra aprile ed ottobre di 50 operatori di polizia locale ad Ischia. Domani, venerdì 16 giugno alle 12, alla presenza del Presidente della Commissione Esaminatrice e del Segretario, presso il Salone delle Antiche Terme Comunali si procederà al sorteggio pubblico della lettera alfabetica corrispondente al cognome del candidato dal quale avranno inizio le prove orali. Il calendario indicante i nominativi dei candidati per ciascun giorno sarà pubblicato sull'albopretorio online e sul sito istituzionale del Comune di Ischia. Questa settimana sono ospiti ad Ischia per un periodo di vacanza accompagnati dalle famiglie e gli orfani dei militari dell'arma caduti in servizio. Il soggiorno è organizzato e offerto ogni anno dall'Opera Nazionale di Assistenza agli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri, ente morale di diritto privato al quale contribuiscono tutti i carabinieri in servizio e in congedo, dedicato alla cura dei figli colpiti dalla perdita in servizio del genitore. Lunedì i ragazzi hanno incontrato il Vescovo di Ischia, Monsignor Lagnese, che ha salutato l'arrivo delle famiglie sull'isola e rinnovato l'avvicinanza morale allo scopo dell'ente. Martedì è stata la volta del saluto delle autorità. Nella mattinata, presso il centro ricreativo dell'Arma dei Carabinieri, si è tenuto un rinfresco. Nei prossimi giorni gli orfani visiteranno i parchi termali dell'isola ed il museo di Enaria, l'antica città romana sommersa scoperta nell'area di Carta Romana. Gestione coordinata del servizio di segreteria comunale. I comuni di Casamicciola e di Caiazzo hanno sottoscritto il 13 giugno una apposita convenzione per la condivisione del servizio. Il comune di Casamicciola ha approvato la gestione coordinata e lo schema di convenzione nella seduta di consiglio comunale del 25 maggio scorso. Stessa cosa ha fatto il consiglio comunale di Caiazzo nella seduta del 12 giugno. Previo accordo col sindaco del comune di Caiazzo è stato individuato per la nomina a segretario comunale della convenzione il dottor Mario Nunzio Anastasio, già titolare della segreteria comunale di Casamicciola dal 14 aprile scorso. La competenza alla nomina spetta al sindaco del comune capo convenzione e per questo il sindaco di Casamicciola, Giovanni Battista Castagna, ha provveduto con apposito decreto sindacale numero 31 del 14 giugno. Lavori di sistemazione della pubblica illuminazione a Barano nei giorni 16 e 19 giugno saranno eseguiti dalla CPL Concordia lavori di adeguamento della rete di pubblica illuminazione lungo via Roma. Per questo motivo il comandante della Polizia Municipale ha disposto il divieto di transito e circolazione veicolare su questa strada a partire dall'incrocio con via Umberto I e fino all'incrocio con via Scotti dalle 8 alle ore 17 e 30. Da domani venerdì 16 giugno fino al 30 settembre ogni venerdì a Ischia Ponte si svolgerà la manifestazione Borgo in Festa organizzata dall'associazione Borgo di Ischia Ponte col patrocinio del comune di Ischia. Gruppi musicali e DJ proporranno brani di musica con postazioni dislocate per tutto il borgo che sarà interamente isola pedonale con stop motore fino alle 24. I visitatori potranno degustare le specialità tipiche del territorio ma per i dettagli vediamo il servizio. Il venerdì sera Ischia Ponte si rianima Borgo in Festa e questa è l'iniziativa che caratterizza la gran parte dell'estate e non solo del Borgo Antico. Ne parliamo con Lucio D'Orta. Come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce per un'esigenza di far vivere il Borgo di Ischia Ponte in una tranquillità con uno stop completo motori, un servizio navetta che permette le persone di parcheggiare nel parcheggio di fondo bosso e di arrivare con questo servizio navetta all'ingresso del Borgo di Ischia Ponte gratuitamente pagato dai commercianti e vede complici otto postazioni musicali distribuite sul territorio con 22 artisti che si esibiranno in queste serate che andranno da adesso venerdì 16 fino al 30 settembre. Un servizio baby parking per i bambini fatto nel piazzale delle alghe e tanta tranquillità senza auto, senza stress. I commercianti sono i veri protagonisti della manifestazione che esibiranno le loro qualità in queste serate. Quindi un doppio scopo praticamente, riacquistare la vivibilità ma anche far conoscere le bellezze di Ischia Ponte, perché no? Anche gli esercizi commerciali. Amedeo dici bene, i commercianti che ringrazio tutti e ringrazio l'amministrazione perché ci ha dato il patrocinio hanno capito che è il momento di far vivere Ischia Ponte in modo differente. Noi siamo convinti e tutti i commercianti hanno partecipato dando un contributo, voglio precisare, questa è una manifestazione pagata dai commercianti di Ischia Ponte con fondi personali. Hanno capito che dobbiamo un attimino far vedere questo borgo che per noi è il borgo più bello d'Italia in modo differente e piacevole da essere visitato. Quindi è anche questo un appello non soltanto ai turisti ma anche agli ischitanti di venire a riscoprire Ischia Ponte? Questo è il nostro aspicio. Noi siamo convinti che sia l'isolano sia proprio il residente di Ischia Ponte vivrà una magia completamente differente che vedranno questo borgo in tranquillità. La nostra è principalmente, oltre a una manifestazione periodica, è una visione che noi vogliamo dare, una visione di un borgo senza auto, una visione dove si può fare una passeggiata, una visione dove c'è un po' di musica in sottofondo fatta, come ti dicevo, da 22 artisti che si esibiranno tutto lungo il corso. Noi non vogliamo creare confusione, le varie postazioni sono proprio per tenere la musica in un livello molto basso che rispetti il borgo di Ischia Ponte. Nei prossimi giorni verrà effettuato un monitoraggio alla condotta sottomarina del gas metano che si trova tra Ischia e Bacoli. I lavori saranno effettuati dalla società ISG Scarle con l'ausilio della motonave Campagna Prima. Per garantire la sicurezza delle operazioni il comandante della Capitaneria di Porto ha emesso un'ordinanza con la quale stabilisce che dal 19 giugno al 18 luglio nel tratto di mare interessato dai lavori sarà vietata la sosta, il passaggio e l'ancoraggio a qualsiasi imbarcazione. Sono vietate anche le attività subacquee. I comandanti delle navi dagli scafi che passeranno in quella zona dovranno prestare la massima attenzione e mantenere le distanze di sicurezza. Nella giornata di oggi è stato presentato l'ultimo arrivato in casa Pietra Torcia, il l'ha tenuta Chignole 2016. Vediamo il servizio. Tanto bel cibo e buon cibo, faraone, parmigiane, frutta, il tutto per esaltare il vino. Il protagonista oggi era il vino ed era la storia che sta dietro questa etichetta Chignole. Per noi famiglia Iacoma, tutta l'azienda Pietra Torcia, Chignole vuole dire tanto. era i terrazzamenti dove il nonno ci ha dato la vita per mantenere elevate le parracine, questi muri al secco che in qualche modo mantengono e sostengono tutto il vigneto. Nel tempo abbiamo fatto una selezione clonale grazie ad Ambroggi, in cantina sempre un lavoro più certosino per esaltare non solo le proprietà organolettiche del prodotto ma anche per dare ragione e tanti sacrifici che costa prima non dovuto e oggi all'azienda mantenere questo terreno. Quindi oggi il battesimo di un vino nuovo, però di un vino che entra da protagonista nella vostra cantina. Diciamo che il Chignole è sempre stato il crew di punta dell'azienda anche per l'esposizione del vigneto, completamente a ovest, qui è un terreno che vede sempre il tramonto, è sfortunato forse rispetto a tanti altri, però l'elemento di novità di quest'anno è che in questa progressiva operazione di reimpianto abbiamo privilegiato il Biancolella, anche poi è il vitigno autocodono per eccellenza dell'Isola d'Ischi e quindi diciamo che il motto o lo spot di questo vino è il miglior vitigno nel posto migliore, quindi la ragione è questa e speriamo e siamo convinti che Gino e Ambrogio, il nostro enologo con Natale in cantina, siano riusciti a salvaguardare il suo profilo anche di qualità. Passiamo all'enologo Gino Iacono, in effetti sei tu quello che ha scelto quali devono essere le uve che dovevano far nascere questo prodotto? Sicuramente è stato un lavoro facile perché comunque abbiamo scelto la miglior qualità espressa da questo territorio che è la Biancolella, affiancata da una delle migliori qualità del territorio campano che è il fiano che in piccole quantità sa dare importanza e soprattutto valorizzare un vitigno come quello del Biancolella. Possiamo dire che un vino bianco di solito ha difficoltà a durare nel tempo, questo però ci prova? Questo non è che ci prova, ha questo obiettivo, sicuramente vuole puntare a essere un vino che come espressione del territorio ischitano punti a sfidare i grandi bianchi italiani, ma non perché deve essere una nostra ambizione, ma perché il territorio della terra di Ischia che è così ricca di valori e soprattutto di storia vitivinicola merita. La Grafiland insieme alla Medmar Navi SPA ha lanciato una campagna per la tutela dell'ambiente mediante la distribuzione del getta cicche. Si tratta di un posacene rettascabile brevettato, realizzato in cartone riciclato e stampato con inchiostri atossici con il quale evitare di gettare in terra o peggio ancora a mare sia mozziconi di sigarette che gomme da masticare. La campagna durerà fino a dicembre per incentivare le persone a rispettare il nostro territorio e per aiutare i nostri comuni a risolvere questo grave problema. Il getta cicche sarà distribuito dalle hostess a bordo di tutte le navi Medmar. Trasporti marittimi, il procidano Giuseppe Giacquinto scrive alla regione Campania mentre si finanzia con un importo di 3 milioni di euro il metro del mare che collegherà il Cilento con la costiera amalfitana ai Capri, le stesse società chiedono ad un procidano 7 euro per andare a Napoli. Non si comprende, dice Giacquinto, come mai il metro del mare non interessa le isole di Procide e Ischia forse perché abbiamo già troppi collegamenti oppure perché contrasta con gli interessi degli armatori privati perché anche dal punto di vista turistico potrebbe rappresentare per noi delle isole un trasporto pubblico economico efficiente e sostenibile. È avvilente, dice Giacquinto, essere considerati cittadini di serie B ma è così difficile amministrare un territorio tenendo conto delle necessità e dei diritti dei cittadini in modo da non creare palesi diseguaglianze? Questa sera, dopo questo telegiornale, trasmetteremo uno speciale sul convegno sugli abbattimenti tra abusi speculativi ed abusi di necessità. Trasmetteremo gli interventi dell'Avvocato Bruno Molinaro sul tema dal protocollo Siracusa alla legge Falanga, diritto alla inviolabilità del domicilio e contrappesi amministrativi ed ancora all'intervento di Aldo De Chiara, magistrato già procuratore aggiunto presso il Tribunale di Napoli e Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Salerno su rilievi critici al nuovo impianto normativo. Olympic Judo Forio, presentata questa mattina nel corso di una conferenza stampa la terza edizione del Memorial Adriana Serpico che si svolgerà dal 22 al 25 giugno. Vediamo il servizio. Maurizio, presentiamo la terza edizione del Judo Summer Camp Memorial Adriana Serpico. Quest'anno ci saranno tante novità. Sì, buongiorno. Anche quest'anno la terza edizione, speriamo di farne tante. Mi pare che i presupposti ci siano. Quest'anno, dal 22 giugno, la partenza quindi da giovedì prossimo fino al 25, avremo la partecipazione di molte più palestre e atleti provenienti da tutta Italia. Si parla da Torino, Parma, Milano, Osimo, provincia di Ancona, a scendere man mano Grosseto, Bari, Latina. Quindi ci attestiamo intorno a un numero sicuramente intorno ai 300. Voglio dire, è una manifestazione che noi ci teniamo a fare, che è nata tre anni fa quasi per gioco, continua con il gemellaggio che noi abbiamo con la palestra del maestro Gianni Maddaloni, l'amicizia mia diretta già precedente al Judo con il maestro Mimmo D'Angelo, nostro caro amico e quindi ci apprestiamo a fare questa ulteriore terza edizione dedicata anche quest'anno ad Adriana Serpico. Ci sarà Pino Maddaloni dal 22 al 25 giugno, in breve, quale sarà il programma? Il programma è quello standard tipo degli anni passati, quindi allenamenti di mattina a partire dalle 9.30 con i ragazzi piccoli pre-agonisti per poi passare agli allenamenti successivi con i ragazzi più grandi, quindi con gli agonisti, dove avremo modo di ammirare sia i ragazzi, i bravissimi e fortissimi atleti della Star Judo Club di Scampia del maestro Gianni Maddaloni, reduci peraltro dagli ultimi campionati italiani, da tantissime altre gare in ambito sia italiano che europeo, con vari titoli, moltissimi titoli vinti e quindi abbiamo il meglio del Judo a livello panorama nazionale e internazionale. Poi ci saranno momenti anche di svago, perché i ragazzi potranno tranquillamente usufruire dei nostri arenili negli intervalli fra gli allenamenti e quindi magari farsi il famoso bagnetto che non guasta mai, soprattutto in questo periodo di grande caldo. Dal 16 al 18 giugno presso l'Hotel Continental di Ischia si terrà il quindicesimo stage di diritto dell'Unione Europea dedicato ad Andrea Caffiero, l'evento è organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli la Commissione di Diritto dell'Unione Europea ed Internazionale. Ed ora come sempre spazio al meteo, vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite prevalenti, ma con possibili brevi temporali. In serata, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, schiarite alternate a nudi sparse. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, nubi e schiarite, con possibili piovaschi. Bene, chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Vi lascio allo speciale sul convegno sugli abbattimenti. E noi ci vediamo, come sempre, all'edizione delle 14. Arrivederci. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.